Con questa immagine, con tutti i pazienti che hanno partecipato a questa missione, si chiude il nostro progetto Uganda 2017. È stato un anno dove abbiamo iniziato tante collaborazioni con il gruppo Uganda che sono partiti dal gestire le medicazioni grazie a Prossi che ha gestito le medicazioni dei pazienti l'anno scorso e ha reclutato i pazienti di quest'anno che abbiamo trovato tutto questo gruppo di ragazzi che abbiamo operato durante queste missioni. Un altro pezzo di Uganda 2017 è stato il fatto che il dottor Calanzi che è venuto in Italia, è stato un mese con noi e quindi ha partecipato attivamente alle nostre attività e poi questa parte attiva. Oltre a questa parte che vedete qui, grazie ai componenti della missione, abbiamo messo le basi per Uganda 2018. Per questo abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che continuate a seguirci, abbiamo bisogno del fatto che il vostro aiuto, oltre che essere un like, oltre che essere un ringraziamento, può essere anche concreto. Anche perché tutte queste persone hanno sicuramente bisogno che continuiamo in questo tipo di lavoro di formazione. Grazie a tutti, un saluto!